La settimana scorsa, giovedì, sono stata malissima a causa di una crisi ipertensiva e non sapevo di averla, però ho avuto un attacco tipo epilettico, convulsivo. Laura racconta con la gratitudine per il suo Luca negli occhi, un piccolo eroe per lei capace, a 12 anni non ancora compiuti, di agire da uomo. Alla fine ho chiamato mio figlio perché in quel momento eravamo a casa io e lui e sua sorella Aurora, che ha 10 anni ma fortunatamente stava dormendo nel suo lettino, con le porte chiusi. Mio figlio è venuto, mamma, 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 cos'hai? Mi ha preso i battiti perché lui è un atleta. Alla fine si è spaventato e ha chiamato gli ospedali, un paio di volte perché loro cercavano di parlare con me e io l'unico suono che sono riuscita a emettere è stato dire aiuto. Laura si è ripresa dal malore grazie all'arrivo dei sanitari e ha deciso, una sorpresa per il figlio, di ringraziarlo così. Un ragazzo dal cuore d'oro racconta. Mio figlio è un bambino incommiabile, non perché è il mio bambino, ma perché è un bambino che ha sempre anche aiutato i più deboli, i disabili e ha un cuore grande. Sono fiera di lui e io volevo condividere questa gioia con voi perché ogni tanto è bello anche sentire notizie belle. Un dodicenne che come i suoi coetanei ha vissuto i lunghi mesi del lockdown in casa, un dodicenne segno di speranza per il nostro futuro. Amore io ti amo infinitamente come amo tantissimo uguale a te tua sorella Aurora, tu sei il mio eroe, lo so che tu non avresti voluto che la mamma dicesse queste cose a nessuno perché sei timido e riservato, magari ti arrabbierai anche con la mamma, però io volevo dirti un grazie profondo perché se sono qui è merito tuo, ti ringrazio tantissimo. Eri tu che eri destinato a me e io a te e sono emozionata. Grazie a tutti.